Buongiorno, ben trovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, oggi lunedì 17 luglio 2017, si ricorda Sant'Alessio. Apriamo come sempre, come ogni mattina nel corso del nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro, iniziamo con l'edizione di Pescara, il titolo riguarda la cronaca. Questo fatto sicuramente è curioso, ma anche e soprattutto preoccupante, perché le onde portano a riva 200 kg di droga. La incredulità e sorpresa tra i bagnanti ieri mattina di Montesilvano, Francavilla, Silvi e Pineto per l'arrivo di questi pacchi di droga, di hashish in particolare, scaricati a riva dal mare grosso, dal maltempo, dal vento degli ultimi giorni e delle ultime ore. Vediamo anche gli altri titoli. Mannarino, ecco i segreti della mia musica, grande attesa per il concerto dell'artista a Chieti. Poi le cronache, emergenza Francavilla, si tuffa nella burrasca, salvato dai cani Bagnino. Poi invece in provincia di Pescara, con le Corvino, minaccia la moglie con il piccone arrestato. Pescara, sfollati, salasso di 200 mila euro per il comune. Poi vediamo dalla parte opposta della pagina la cronaca regionale. Sanità, parte il piano per cinque nuovi ospedali nella nostra regione. e poi sicurezza sull'autostrada dei parchi, sulla 24-25. La senatrice Pezzopane dice 500 milioni per l'autostrada. Dunque ovviamente si parla di sicurezza su questa importante arteria che collega la costa, l'Abruzzo, con la capitale. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, qui già inquadrata edizione di Chieti. Lo stesso titolo che accomuna un po' tutte le edizioni riguarda questa notizia della droga ritrovata sulla spiaggia di alcune località abruzzesi. E poi, in questo caso, edizione di Teramo del centro, non di Chieti. Tortoreto, paura all'acquapark. Bimbo rischia di affogare. Ieri, come detto, mare grosso, vento. Ed era sicuramente pericoloso fare il bagno. Come abbiamo visto, c'è stato qualche problema anche a Francavilla con questo salvataggio dei cani bagnino. E poi Teramo, Cineteatro, nuova gestione in bilico. Roseto degli Abruzzi, da oggi multa nei parcheggi a pagamento. E poi in basso, abbiamo visto anche prima nell'edizione di Pescara, ritroviamo la notizia anche nell'edizione di Teramo, perché l'avvenimento sportivo del giorno, della giornata di ieri, era ovviamente il trofeo Matteotti di ciclismo, settantesima edizione, gara che si è corsa a Pescara con la vittoria di Sergei Shilov, un corridore russo che ha battuto in volata i due italiani, Belletti e Canola, Ciccone, l'abruzzese Ciccone, che era tra i favoriti per la vittoria finale, invece non è riuscito ad ottenere un buon piazzamento. Andiamo a vedere anche l'edizione del centro, di Chieti, in questo caso paura vasto, tre incendi in poche ore, fiamme vicino le case, poi Chieti edilizia in città, in aumento le licenze. E poi parla il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, che dice scuole e strade, senza fondi, problemi per le province, per tutte le province, per i tagli, per le maggiori e minori entrate del governo. Ci sono problemi, soprattutto per i due settori, diciamo, di cui la provincia ha il controllo, di cui si occupa in maniera prioritaria, ovvero proprio la manutenzione delle strade e le scuole. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro, per chiudere con quella che riguarda l'Aquila. sangue infetto, adesso paga la ASL, Avezzano sentenza per un uomo morto di cirrosi, condannato anche il ministero. Poi all'Aquila il sindaco Biondi dice la croce in aula è la nostra identità, dunque si torna a parlare del ritorno, del croce fisso nell'aula consigliare. Poi sul Mona la cucinotta, madrina della giostra cavalleresca, possiamo vedere in questa foto proprio Maria Grazia Cucinotta. Poi a Celano invece Danilo Ciaccia, la voce degli emigranti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero, come per il centro ovviamente. Il titolo principale riguarda questa notizia di cronaca dall'Adriatico un mare di droga, pacchi di marijuana inondano le spiagge tra i bagnanti stupiti di domenica mattina. Poi strada dei parchi sbagliato di rottare i fondi all'Anas e poi Rigopiano chiede giustizia per le vittime. Ieri a sei mesi dalla tragedia c'è stata una giornata nel segno del ricordo per le 29 vittime con il concerto dell'orchestra sinfonica abruzzese. Tra l'altro poi vi anticipo che nel corso delle nostre edizioni del TG6 a partire dalle 14 vedremo anche un servizio che abbiamo realizzato proprio a Rigopiano. In alto le altre notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Val Vibrata, tre bambini salvati dalle onde, ma uno è in gravi condizioni. Poi a Pescara, il festival di Pescara Jets con un nuovo appuntamento per questa sera e poi lo sport con il Matteotti, con il Russo Shirov che vince in volata la settantesima edizione del trofeo Matteotti. Possiamo andare, ora abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere insieme invece le prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola per vedere un po' quali sono i titoli che riguardano i fatti di cronaca nazionale e internazionale, la politica, soprattutto la legge sullo Ius Soli che continuano a tenere banco perché a tal proposito ci sono importanti novità e lo vediamo subito dal quotidiano La Repubblica perché Ius Soli c'è la retromarcia del governo a sud barricate contro i migranti, Gentiloni, il premier, dice niente legge entro l'estate, impegno per l'autunno. La destra esulta e dice è una resa e poi se i giovani non sperano nel paese, dunque c'è questo importante articolo di spalla di Ilvo Diamanti che riguarda proprio le aspettative dei giovani italiani. Poi in basso un titolo che riguarda anche lo sport perché Roger Federer, imperatore di Wimbledon. Siamo al tempo di Roma sanatoria pure per le occupazioni abusive in festa nella delibera regionale, siamo ovviamente nel Lazio sull'emergenza abitativa, spunte il colpo di spugna, avrà alloggi pure chi vive da almeno quattro anni in immobili impropriamente adibiti a casa. Andiamo avanti. Il messaggero Loius Soli sul binario morto, Gentiloni, dice maggioranza divisa, giusta la legge sulla cittadinanza, ma mancano le condizioni, alfano bene così. Renzi, l'ex premier che aveva molto premuto per l'approvazione della legge, dice si doveva fare subito, meglio rasciar perdere. Ci è costato. Nei sondaggi e poi vedete a centropagina tornado e roghi, feriti e paura, a Ostia e Capalbio. Ieri ci sono stati problemi per gli incendi, ma anche per il maltempo, per il vento soprattutto, mentre nei giorni scorsi c'erano state anche delle trombe d'aria nella nostra regione, con vento e piogge. Poi a Roma la vicenda della donna trascinata per oltre 135 metri nella metropolitana di Roma. È stato sequestrato il treno. La donna resta ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Siamo alla stampa di Torino. Ius soli, lo stop di Gentiloni. Mancano le condizioni. La legge rischia a questo punto di saltare Merkel sui migranti. Dice in Germania no al numero chiuso. E poi vedete il risico della Cina, questo articolo con correddo di foto che riguarda il risico appunto del paese, del colosso asiatico per prendersi l'Artico. E poi siamo al Corriere della Sera. Ius soli, lo stop di Gentiloni. Il premier dice sarà votata dopo l'estate. Migranti via le ONG che violano il codice, le organizzazioni non governative. E dunque si continua a parlare su tutti i giornali proprio di questo Ius soli che ha creato polemiche dall'una e dall'altra parte. E poi in basso si parla di fisco. Il fisco semplice che si complica però sempre di più. Dunque questo articolo all'interno del Corriere della Sera per parlare di fisco. Naufraga pure lo Ius soli. Bye bye. Gentiloni sconfessa Renzi. Scrive il Fatto Quotidiano. Non ci sono le condizioni. Se ne riparla dopo l'estate. Siamo al mattino di Napoli. Ius soli, Gentiloni, rivia la legge. Mancano le condizioni per il sì. Migranti al sud. Cresce la protesta dei comuni. E poi vedete a centro pagina si parla di sport, calcio. Napoli attacco a 6 stelle con l'intervista al presidente dell'Aurentis. E poi il tennis perché Federer lottava a meraviglia. E lui, ancora una volta, il re di Wimbledon. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova. Gentiloni frena sullo Ius soli. Merkel no al tetto per i migranti. E poi l'Unione Europea dice sì al codice di condotta. Proseguiamo. Sole 24 ore. Casa, rimborsi e scontrini. Le insidie del modello. 7 e 30. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso oggi in esame. Dei giornali che ovviamente troveremo oggi in edicola. Possiamo tornare a questo punto a dare uno sguardo alle pagine interne dei nostri giornali, dei giornali abruzzesi. Possiamo ripartire dal quotidiano Il Centro che a pagina 2 parla dell'edilizia sanitaria del piano abruzzese. Abbiamo visto anche il richiamo in prima pagina. 5 nuovi ospedali. Sul tavolo 371 milioni entro l'estate. La firma del contratto di programma come leggiamo qui dal centro con il Ministero. Poi via ai bandi per Vasto, Lanciano, Sulmona, Avezzano e Teramo. In basso, con i privati lavori in tempi più brevi, Paolucci dice abbiamo bisogno di strutture che entrino in attività dopo tre anni. e non dopo 20. E poi, Finanza e opere pubbliche. Pagina 3. Vediamo due articoli che parlano di due argomenti sicuramente importanti. Il primo, con la Corte dei Conti che richiama la Regione. Bilancio critico dice la magistratura contabile ed Alfonso davanti ai magistrati contabili. Abbiamo la necessità di soddisfare il bisogno dei cittadini. Paolucci, l'assessore al bilancio e alla sanità, poi aggiunge stiamo lavorando per riallineare i documenti. E poi, messa in sicurezza dell'autostrade, esponente del PD Aquilano Pezzopane, dice, 564 milioni per i lavori sulla A24 e A25. La senatrice presenta un emendamento in commissione al decreto mezzogiorno per destinare più risorse ai lavori di risanamento dei viadotti danneggiati. Siamo alle pagine di cronaca nazionale, abbiamo visto un po' gli argomenti dalle prime pagine dei quotidiani, lo scontro sulla legge con lo Ius Soli rimandato all'autunno e poi le coalizioni in bilico con Berlusconi che chiude a Renzi e si riavvicina a Salvini e poi il caos in Venezuela, prova di forza contro il presidente Maduro. E poi vediamo a pagina 7 l'Italia brucia ancora, campeggi evacuati nella Capalbio dei Vip. Siamo arrivati ecco qui di nuovo alle cronache dalla nostra regione in particolare dalle nostre province partiamo da Pescara con quella che è stata ieri la notizia di cronaca più importante la droga tra le onde il mare grosso spinge a riva 200 kg di mariuana sorpresa tra i bagnanti gli spiaggiamenti a Scerne di Pineto Silvi, Montesilvano e Francavilla al mare per gli investigatori potrebbe essere un carico perso in mare dai trafficanti partiti dall'Albania in questo caso il mare grosso potrebbe aver giocato un brutto scherzo a questi trafficanti di droga e a proposito di mare grosso ieri ci sono stati problemi e fortunatamente non ci sono state vittime proprio per il mare grosso che ha creato problemi e vedete questo titolo che riguarda proprio uno dei salvataggi di ieri si tuffa nella burrasca salvato dai cani bagnino momenti drammatici sulla spiaggia di Francavilla ferito uno degli operatori il bagnante la corrente mi ha portato oltre gli scogli grazie ai soccorritori e poi a proposito di mare acque pulite da Pescara a Francavilla le ultime analisi dell'Arta indicano infatti valori conformi ai limiti di legge su oltre 15 chilometri di litorale e questa è sicuramente una buona notizia dopo quanto accaduto in precedenza siamo sempre a Pescara cambiamo argomento l'emergenza degli sfollati ci è costata 200 mila euro il vice sindaco di Pescara Blasioli illustra i prossimi interventi per gli inquilini di via Lago di Borgiano mentre il 30 luglio dovranno trovare tutti una sistemazione autonoma e poi a centropagina parla Lance che dice a Pescara ci sono 300 case invendute vedete nella foto il presidente del Lance di Pescara Marco Sciarra l'associazione costruttori propone incentivi per favorire gli acquisti degli sfollati e poi invece in basso si parla dell'AIL con sabato l'inaugurazione di una sala della sede AIL di Pescara di via Rigopiano a Diciccio la nuova struttura che porterà il nome del magistrato scomparso 21 anni fa siamo alla cronaca di nuovo in questo caso dalla provincia di Pescara minaccia la moglie con piccone e martello Colle Corvino arrestato un giardiniere di 55 anni la donna si era barricata in casa con i figli dopo averlo denunciato e poi a Montesilvano ancora cronaca ragazzini rapinati dei telefonini da tre coitani in via Isonso e poi ritroviamo anche l'altra notizia di cui avevamo visto una nota nella prima pagina in questo caso del messaggero ma che troviamo anche all'interno del centro in tanti infatti ieri al concerto per ricordare a sei mesi dalla tragedia le 29 vittime di Rigopiano c'è stato questo concerto lo vedete nella foto dell'orchestra sinfonica abruzzese ancora cronaca questa volta dalla Val Pescara incidente con il fuoristrada feriti quattro ragazzi paura a San Valentino dove abitano i giovani uno di loro in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara lasciamo la cronaca di Pescara e provincia spostiamoci a Chieti e in provincia di Chieti in questo caso soprattutto a Vasto dove ieri è stata una giornata difficile sul fronte degli incendi le fiamme che hanno minacciato le case tre roghi sono divampati in contemporanea a Nord di Vasto pollaio distrutto turisti in fuga da Motta Grossa l'origine è dolosa come purtroppo è stato anche in passato anche nei giorni scorsi come sembra anche negli incendi che avevano colpito la Val Pescara e poi a centropagina ritroviamo la notizia che avevamo visto nella prima pagina dell'edizione di Chieti del centro con l'intervista al presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo che dice non ci sono più soldi per scuole e strade non copro le spese per le superiori e chiudo le vie malmesse province sempre più a corto di soldi e dunque c'è questo grido d'allarme del presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo e poi in basso la settimana mozzartiana ed altri appuntamenti a Chieti il coro saluta l'alba stellario buona la seconda serata dunque nel locale diciamo per eccellenza della Movida Teatina proprio allo stellario della Civitella di Chieti siamo la pagina dell'Aquila e della provincia in questo caso partiamo dalla Marsica da Avezzano sangue infetto maxirisarcimento ASL e Ministero della Salute leggiamo in questo articolo condannati a pagare un milione e mezzo di euro la famiglia di un uomo morto di cirrosi parla l'avvocato Terra il decesso nel 2001 a causa di una grave patologia provocata da trasfusioni di sangue con il virus dell'epatite C e poi Assulmona pronto soccorso nel caos file e proteste il tribunale del malato accusa poco personale nei reparti a causa delle ferie e in basso andiamo all'Aquila per parlare di politica ancora della vicenda del crocifisso in aula con il sindaco Biondi il neosindaco della città capoluogo di regione che ribadisce come il crocifisso rappresenti l'identità italiana in questo caso l'immagine riposizionata in consiglio Cialente l'ex sindaco ribatte nessuno l'ha tolta Mancini non si deve votare dice l'altro esponente politico andiamo avanti arriviamo alla pagina che riguarda Teramo ovviamente come ogni lunedì meno spazio alla cronaca sui quotidiani abruzzesi e ovviamente più spazio allo sport come sempre anche se ovviamente siamo in estate non ci sono i campionati in corso però c'è grande spazio per lo sport come ogni lunedì sia sul centro che sul messaggero pagina di Teramo paura all'acqua park bambino rischia di affogare a Tortoreto il piccolo di 5 anni di San Nicola Tordino è andato in arresto respiratorio ma è stato subito rianimato e poi lo scontro sulla cultura siamo a Teramo cineteatro gestione contestata c'è il rischio che salti il contratto e poi a Tortoreto invece per tornare a parlare di appuntamenti estivi rispunta la Movida fino alle 4 del mattino abbiamo visto dunque le pagine di cronaca del quotidiano il centro ora possiamo andare a vedere abbiamo qualche attimo di tempo possiamo andare a vedere le prime pagine almeno la prima pagina che riguarda la cronaca dalle nostre province dal messaggero poi come sempre ci fermeremo per qualche istante per andare a vedere in questo caso invece le previsioni del tempo anche per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 allora andiamo a vedere lo faremo tra qualche istante però le pagine interne del messaggero ovviamente abbiamo visto già la prima pagina del quotidiano romano con le notizie che riguardano la nostra regione attendiamo ancora qualche secondo affinché si visualizzi proprio la pagina l'edizione Abruzzo del messaggero poi come detto ci sarà una importante pagina sportiva nella seconda parte come vi dicevo grande spazio allo sport soprattutto parleremo del trofeo Matteotti andremo a vedere ad ascoltare delle interviste che abbiamo realizzato ieri proprio al termine della gara al traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi prima pagina del messaggero eccola qui si parla di Rigopiano della manifestazione di ieri della cerimonia più che di una manifestazione a dire il vero musica e comitato per dare giustizia alle vittime c'è stato questo concerto lo leggiamo qui anche dal richiamo dell'articolo il concerto dell'orchestra sinfonica abruzzese sulle note del signore delle cime poi i lavori di pulizia come provocazione con i parenti delle 29 vittime che hanno chiesto di riavere indietro gli oggetti dei propri cari e poi cambiando argomento Pescara Jets quella di questa sera sarà la serata degli Uzeb 3 Union e poi invece la cronaca in questo caso cronaca che arriva dalla provincia di Pescara in particolare da San Valentino perché un'auto si è ribaltata a San Valentino in Abruzzo Citeriore ci sono stati quattro feriti di cui due in condizioni molto gravi uno in particolare che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara allora abbiamo il tempo per vedere la pagina dell'Aquila del Messaggero poi ci fermeremo per qualche istante abbattimento e ricostruzione per tutti gli istituti superiori c'è il via libera per ora solo informale della struttura tecnica di missione poi nel piano pluriennale inseriti gli edifici di competenza comunale e provinciale e dunque già si pensa ovviamente giustamente al prossimo anno scolastico all'Aquila soprattutto nella città dell'Aquila ma anche in provincia poi Carrefour dipendente all'ospedale insorge l'UGL piovono critiche dai sindacati sul comportamento dei responsabili del supermarket e poi Top Gear campo imperatore come scenario di una puntata c'è stato lo show dedicato all'automobilismo trasmesso in oltre 200 paesi e visto pensate da oltre 350 milioni di spettatori andiamo a vedere gli ultimi due articoli che riguardano la pagina dell'Aquila del messaggero primo articolo riguarda un'inchiesta bus a fuoco sotto il traforo neguai il titolare della ditta per la procura se il mezzo fosse stato attentamente revisionato l'incendio si sarebbe potuto evitare e poi le tradizioni perché c'è stata la corsa del cappello con il palio che è tornato da Tempera a Pagani la gara si svolge su un percorso di 3 km che tocca tutti e 4 i rioni della frazione a due passi dall'Aquila dunque possiamo fermarci per qualche istante come detto andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 avevamo esaurito la lettura della pagina relativa alla cronaca dell'Aquila siamo invece alla pagina che riguarda la marsica e l'area peligna partiamo dalla marsica allarme fucino pesci morti nei canali presutti futuro assessore all'ambiente lancia l'appello probabilmente i problemi sono nati dalla siccità anche il WWF aveva da tempo segnalato il caso l'emergenza così anticipata rende necessaria una reazione coordinata problemi proprio nell'area marsicana del fucino dovuti alla siccità davvero preoccupante in questa zona della nostra regione restiamo ad Avezzano Micron si ammette per migliorare per i migliori alunni mentre a Sulmona parliamo della giostra cavalleresca oggi i cavalieri lanciano la sfida dunque entra nel vivo questa importante manifestazione estiva che si tiene nella città Peligna restiamo a Sulmona biblioteca lavori ad agosto Chiodi interroga D'Alfonso tornando invece all'area marsicana Trasacco rapina e violenza altro arresto per la mani poi invece ferrovia per Roma parliamo sempre dei collegamenti tra la Marsica la capitale c'è il giallo dei biglietti infine a Rivisondoli niente alcol per concerti e gare sportive Rivisondoli che ospita lo ricordiamo il ritiro del Pescara e dunque è stato così deciso proprio per motivi di ordine pubblico siamo alla pagina di Chieti del quotidiano il messaggero impianti sportive ai privati il comune parte dal tennis piana vincolato assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Chieti che si impegna per duecentomila euro di lavori oggi l'apertura di buste per altre offerte il nodo dello stadio Angelini e del Pala Tricalle e poi di primio in Forza Italia l'accoglienza è però freddina come leggiamo in questo articolo di Stefano prende le distanze dagli entusiasmi di Pagano e Pelino la base informata dice dai giornali e poi Vescovo di Terni ferito in un incidente andava al funerale del fratello e poi Castiglione mercoledì al Ministero dello Sviluppo Economico il neosindaco di Ortona per dire no al deposito di GPL in basso siamo prima a Vasto dove mancano quattro infermieri pronto soccorso senza Obi e poi all'ospedale San Pio leggiamo non parte il servizio Obi che sta per l'acronimo di osservazione breve intensiva servizio che era stato inaugurato mesi fa e poi a Lanciano Pupillo conferma le deleghe di giunta a Sasso e Valente siamo alla pagina di Teramo Asl arriva il nuovo primario di igiene e sanità pubblica e il dottor Antonio Santone che curerà anche la profilassi internazionale si occuperà della prevenzione malorganico è ridotto all'osso e poi andiamo a vedere altre notizie che arrivano dalla provincia di Teramo partiamo da Giulianova per le vicende giudiziarie no parcheggi alla patrimonio il passaggio slitta da come leggiamo in questo articolo dal 25 luglio alla fine del mese di settembre a Cortino ragazza 18enne cade dal muro fortunatamente se la caverà in pochi giorni dunque è andata bene a questa ragazza mentre tornando a Giulianova ladri messi in fuga da un mastino napoletano in Val Vibrata mare agitato tre bambini salvati ma uno è grave successo all'acquapark padre e figlia in difficoltà a controguerra due ragazzi in crisi e poi questa notizia che deve essere sicuramente sottolineata che arriva da Alba Adriatica operaio trova portafogli e lo riconsegna ai proprietari siamo arrivati in questo caso alle pagine dello sport del messaggero possiamo a questo punto ripartire con lo sport e anzi aprire proprio la pagina sportiva come ogni lunedì molto ampia come sempre dettagliata per iniziare a vedere quali sono gli articoli che riguardano lo sport della nostra regione apriamo come di consueto e come sempre con il calcio di serie B con il Pescara perché c'è un Pescara a rivisondoli con la valigia sono infatti 24 gli over 23 ma il regolamento ne consente 18 in lista e Zeman vuole altri giocatori dunque come annunciato anche in precedenza Pescara dovrà sfoltire i ranghi lo dovrà fare anche in fretta per permettere a Zeman di lavorare in maggiore tranquillità e anche di avere quei giocatori che potrebbero servire per completare l'organico siamo alla pagina che riguarda il calcio nazionale in questo caso sarà un Milan da Scudetto Fassone vuole anche il Gallo Belotti domani invece vedete in basso il Via la Champions d'estate in America in Asia partirà il torneo con le migliori squadre europee in campo queste tournee delle nostre formazioni che ovviamente servono anche per fare cassa e poi il re di Wimbledon ottavo trionfo a 36 anni Federer oltre la leggenda macchina da soldi e di successi ha rivinto dopo 16 anni dalla prima volta e poi in basso il ciclismo con Fromm che trema ma Auro non ne approfitta parliamo del Tour de France la maglia gialla è fora ma gli uomini di alta classifica non ne approfittano andiamo avanti arriviamo anche a vedere cosa è successo ieri nel Gran Premio di Formula 1 non è andata bene obiettivamente alle Ferrari c'è stato anzi l'assolo delle Mercedes che hanno chiuso ai primi due posti con la vittoria di Alonso il secondo posto di Bottas terzo Kimi Raikkonen settimo Sebastian Vettel con l'altra Ferrari che è stato tradito da una foratura nel finale vedete lo vediamo qui da questa immagine la classifica piloti che vede tre piloti racchiusi in pochissimi punti al comando si fa per dire c'è Vettel della Ferrari con 177 punti ma a 176 c'è Lewis Hamilton e al terzo posto l'altro pilota della Mercedes Bottas con 154 dunque le due Mercedes alle spalle di Sebastian Vettel ieri beffato da una foratura andiamo a vedere le altre pagine e siamo dunque al trofeo Matteotti come vi dicevo a giornata di ieri ha visto il trionfo sulle strade del circuito cittadino di Pescara per questa settantesima edizione del russo Sergei Shilov cuore di sante beffa ciccone vediamo come è andata anche con la partecipazione di pubblico tanti tifosi lungo il percorso di 14 chilometri e mezzo grande festa tra arrosticini grigliate di pesce e fiumi di birra il prossimo anno il trofeo Matteotti però si svolgerà a settembre e come detto su Pescara ha soffiato il vento dell'est con la vittoria del portacolori della Logo Speaks Sergei Shilov secondo Manuel Belletti terzo Marco Canola vediamo in basso le foto del Matteotti una in particolare se la possiamo inquadrare in questo caso è questa foto in basso al centro vediamo in questo bel quadretto da sinistra Stefano Giuliani direttore sportivo della Nippo Vini Fantini poi Filippo Falconio Gabriele Marchesani patron della GM Ovini Valentino Sciotti patron in questo caso della Vini Fantini e poi Daniele Sebastiani vicepresidente del Matteotti ma presidente del Pescara Calcio vediamo anche le reazioni al termine della gara con Di Sante della GM Ovini che è stato in fuga pensate per 150 km ho dato tutto ma non è bastato e poi Belletti podio amaro che peccato il secondo posto ma noi lasciamo lo spazio invece alle immagini alle parole dei protagonisti andiamo ad ascoltare proprio il secondo del terzo classificato al settantesimo trofeo Matteotti Manuele Belletti secondo posto al Matteotti soddisfazione o più rammarico per aver mancato la vittoria qui a Pescara soddisfazione direi di no più rammarico perché è il secondo anno di fila che faccio secondo il secondo anno che rimango fregato quest'anno purtroppo è venuto tutto perfetto a parte la volata non mi entravano i rapporti e praticamente sono partito ero agilissimo non mi andava giù il cambio mi è entrato il rapporto giusto gli ultimi cento metri ero in netta rimonta ma purtroppo non è servito nulla adesso vediamo guardiamo con fiducia le prossime gare e niente è andata così anche quest'anno tra l'altro oggi un Matteotti particolare con una temperatura piuttosto fresca con del vento rispetto al passato in cui spesso si è corso con temperature tropicali sì oggi siamo stati fra virgolette graziati dal tempo non era il caldo solito che ci aveva abituato questa corsa meglio così infatti la corsa secondo me è venuta meno dura di quello che ci aspettava c'è stata meno selezione e peccato prossimi appuntamenti per quanto ti riguarda ora andrò a fare un periodo olivigno e poi riprenderò il 30 con la London Classic per poi ricominciare ad agosto con le gare in Francia per preparare al meglio le gare in Italia a settembre Marco Canola terzo classificato al Matteotti una punta anzi più di una punta di Abruzzo in questo podio qui alla settantesima edizione del Matteotti perché rappresenti una formazione che porta anche i colori della nostra regione innanzitutto ti chiedo soddisfatto per questo terzo posto oppure punta via la vittoria visto che c'è stato questo arrivo in volata sicuramente un po' di ramarico visto come è andata la corsa stavo bene nel finale ho fatto terzo però ho anche attaccato sull'ultima salita era quello che stava meglio che aveva più condizione siamo rimasti in quattro io ho dato tutto purtroppo non ho avuto il giusto la giusta collaborazione da parte degli altri c'era ciccone c'era lui è stato un po' rimissivo non dava i cambi che magari era un po' stanco dall'azione quindi ci sta forse sono stati ripresi l'ultimo chilometro ma nonostante questo sono riuscito a fare di nuovo una buona volata e niente dai costandole poi potevo aspettare magari avrei potuto essere primo a posto di terzo in volata però sono anche le corse ho seguito come diceva l'istinto la testa dal corridore in quel momento ho attaccato e è andato così queste le impressioni dei due ciclisti che sono arrivati alle spalle del vincitore Scilov lasciamo per il momento il Matteotti poi torneremo a parlarne con gli articoli del messaggero ora siamo invece al calcio al Pescara Pescara servono almeno sei cessioni dunque Pescara che ha urgente bisogno di sfoltire l'organico il regolamento infatti consente la presenza in rosa di 18 over 23 il Delfino ne ha 24 e Zeman vorrebbe una scrematura più ampia in basso Coulibaly Selassie Latte Latte Mitriza i più rapidi e poi le altre notizie di mercato perché l'ex Biancazzurro Pasquato sbarca in Polonia giocherà con l'Eleggia Varsavia mentre di Sabatino si trasferisce a Terni e poi parliamo del Teramo il diavolo ad Alfedena ma Dio l'obiettivo del Teramo è la salvezza il centrocampista Biancorosso dice ricominciamo con entusiasmo e voglia di Rivalsa in basso si parla di dilettanti del Lanciano perché mercoledì partirà la campagna abbonamenti la tessera sarà valida per le gare di campionato e di coppa ancora da sciogliere il nodo del portiere nella foto lo vedete nella foto piccola in basso il neopatron del Lanciano della Virtus Lanciano De Vincentis ed il tecnico della formazione rossonera Alessandro Del Grosso andiamo avanti siamo alla pagina della serie D la vastese si aspetta almeno 500 abbonamenti oggi il lancio della campagna dal Venezia arriva il portiere classe 99 Camerlengo il 3 agosto amichevole di lusso allo stadio Aragona con il Benevento di Marco Baroni fresco di promozione in serie A in alto si parla invece dell'Aquila che attende per domani l'ultima risposta dall'imprenditore Laziale Fioravanti per rilevare il 70% delle quote sociali le altre notizie delle squadre abruzzesi di serie D Nero Stellati Prato alle prime partite forse a Sulmona o Pescina poi a Vezzano le mani della formazione del presidente Gianni Paris su Rabbeni e a Vezzano che vuole anche Alvino e Terriaca in basso si parla del Pineto con la rosa che va completata con alcuni under e poi si attendono acquisti eccessioni per la Virtus San Nicolò quella appena iniziata in questo senso è una settimana decisiva e poi il mercato delle due grandi di eccellenza il Real Giulianova cerca 4 under per completarsi quasi preso Fabrizi ex Alba due arriveranno dalla San Benedettese il direttore generale Bernacotola dice ci aspettiamo molti abbonamenti e poi Chieti c'è Casella Caccia a Calderaro e Mazzaferro per il centrocampista si tratta l'esperto Censori ex Iesina e Avezzano in ritiro sarà in prova l'argentino Novello in basso si parla del Cupello cambiano i vertici con il ritorno anche di Marconato scatenata la Torrese presi Torbidone e Carosone in promozione il Morodoro presenta ben nove acquisti Rugby ancora da decidere la formula dei campionati giorni d'attesa per le società abruzzesi che attendono il verdetto del Consiglio federale primo appuntamento sportivo a settembre per il Memorial Sebastiani e poi l'Aquila la sconfitta con gli Ammers è difficile da smaltire finale del campionato League 13 con il K.O. della formazione aquilana in basso softball di Serie A2 l'Atomschietti cede alla corazzata Montegranaro e chiude terza e poi invece Triathlon dove si registra il trionfo della pescarese Ciuffini ad Alfedena la seconda edizione dei Sanniti terzetto Terramano vince invece la staffetta siamo alla pagina del basket Roseto Sharks l'obiettivo è quota 1500 abbonamenti presentata la campagna al via il 22 la novità principale è il pacchetto famiglia appello ai tifosi tante tessere ci aiuteranno a prendere due americani forti dunque tifosi invitati ad abbonarsi per ovviamente far sì che la società possa reperire sul mercato due americani di valore il basket invece di serie B con l'amatori Pescara e con Bedetti il quintetto è praticamente fatto il neo coach Raiola dice ottime scelte e poi tifosi state tranquilli il camplice per lo storico dirigente del Paggio non ci sono motivi per essere preoccupati e poi in basso Bianchi Musso darà tanto al Teramo si parla dell'ultimo acquisto Biancorosso in attesa di altri arrivi riusciti confermato Presidente 29 i soci della formazione Teramana di Pallacanestro e poi il colpo dei giallorossi si parla in questo caso del Giulianova Criconia promessa della Reier a Giulianova posso crescere per quanto riguarda la Silver Stama all'Aquila notizia che avevamo già dato nei giorni scorsi infine la Guaia Ortona ancora senza tecnico favorito di Paolo ma prima va riorganizzato l'assetto societario il mercato fermo potrebbe andare via il forte Gialloreto andiamo ancora avanti con l'ultima pagina che riguarda lo sport dal centro quarto sigillo di sigillo di Adugna nella notturna Toccolana che si è disputata sabato sera il podista italo-etiope ha dominato ancora una volta la gara che ha visto sulle strade del paese 956 atleti primo abruzzese al traguardo Alessio Bisogno tra l'altro grande partecipazione con 956 atleti come leggiamo nella gara competitiva ma oltre 1200 in totale grazie anche a una nutrita rappresentanza di giovanissimi che hanno partecipato alle gare riservate ai più piccoli e poi l'ottava Vacri Tour con Bucci che mette in riga Scarince e De Grandis di Prinzio da applausi altra gara podistica questa che si è invece disputata ieri a Vacri con la vittoria di Antonio Bucci in basso il ciclismo giovanissimi con la vetrina per gli amici della Bici Junior squadra prima classificata davanti da Scenzio Bike e alla pedale teate con la gara di Barrea infine mountain bike il farindolese Fragassi vince a Barrea prova di 40 km valida anche per il campionato regionale lasciamo le pagine dello sport del centro e siamo invece a quelle che riguardano il messaggero ripartiamo ovviamente dal Pescara con il commento ovviamente su quello che si sta facendo sul mercato in questi giorni parla a tal proposito l'ex portiere Biancazzurro Luca Anania il tecnico dice l'ex Biancazzurro ha sposato la causa può ripetere l'impresa della promozione il dualismo tra Fiorillo e Pigliacelli con il Boemo la concorrenza è utile dice Anania non ci sono gerarchie precostituite e intanto per la difesa si pensa ad un ritorno che sarebbe clamoroso quello di Romagnoli che era stato difensore proprio nel Pescara di Zeman che nelle ultime stagioni ha militato in serie A e poi in serie B lo scorso anno con il Carpi e intanto in ritiro oggi arriva Ugo Campagnaro che firmerà un nuovo contratto con la società Biancazzurra a 37 anni il volley in basso con la conferma di Peda chiude il mercato della SIE Cortona da oggi club di serie A riuniti tre giorni a Bologna giovedì saranno presentati i calendari la formazione della SIE Cortona unica rappresentante della nostra regione in serie A2 e poi siamo al calcio di Lega Pro Teramo e Petrella il rinforzo last minute tra il centrocampista e la società strade che sembravano separate ora invece il passo indietro con Petrella che resterà a giocare con i biancorossi e intanto l'attaccante Foggia si è aggregato ieri ai compagni nella cittadina alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo ovvero al Fedena dove il Teramo resterà a lavorare fino al 29 di luglio e a proposito di Teramo il nostro Jacopo Farcella ha ascoltato il tecnico biancorosso Antonino Asta Mister si ricomincia dopo la conferenza stampa adesso anche l'attesa di fatto è finita sono finite le vacanze ti rimetti in gioco dopo un'annata che forse tu prima di molti altri vuoi metterti alle spalle sì assolutamente sì non vedevo l'ultimo di iniziare questa stagione e quindi insomma da parte mia c'è la voglia massima per poter veramente contribuire insieme a tutti i giocatori di fare un bel campionato ecco questo obiettivo perché senti sempre quali sono gli obiettivi la salvezza la promozione i playoff io credo che inizialmente bisogna pensare di dare un'identità alla squadra di far sì che questa squadra scende in campo dando tutto e poi pian piano arriveremo a quello che saranno sia l'aspetto tecnico tattico quindi i sistemi di gioco e quello che sarà anche gli obiettivi ma solo strada facendo potremmo renderci il conto Di Foggio e Tulli sono due ottimi giocatori insomma Tulli è un giocatore che questa categoria qua anzi ha fatto anche la B l'ha fatta sempre bene può fare sia la seconda punta all'esterno può fare varie chi ruoli ma quello secondo me dietro la prima punta lo può fare ancora meglio e Foggio è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto benissimo nelle categorie inferiori ma quando fai tanti gol in eccellenza in serie D e ti sei di nuovo affermato in Lega Pro nella vecchia Lega Pro vuol dire che è qualcosa io l'ho visto mi sono informato è un giocatore che ha grande voglia è un giocatore che si vuole mettere a disposizione e noi abbiamo bisogno prima di uomini che di giocatori ho capito che c'è la voglia chi viene quest'anno a Teramo deve avere una voglia diversa ma non che prima non venivano però con una determinazione con qualcosa che dobbiamo conquistarci no che insomma arrivi giocatore qui è un punto di partenza per raggiungere qualcosa di importante però sappiamo insieme alla società sappiamo che ancora siamo incompleti però questi due acquisti insomma ci fanno partire con non dico entusiasmo con idea già diversa aspetteremo gli altri i giovani valuteremo chi veramente sarà in grado però sappiamo che ancora il mercato insomma non dico che è appena iniziato però ancora c'è c'è da fare però prima di bruciarci certi ruoli voglio valutare i nostri però non c'è dubbio che hai detto bene tu davanti ancora manca qualcosa anche al centro campo e queste le parole del tecnico biancorosso Antonino Asta che ha parlato soprattutto degli ultimi due innesti sul mercato quelli di Foggia e Tulli giocatori sicuramente importanti per rinforzare il pacchetto avanzato della formazione biancorossa dalla serie C ci spostiamo scendiamo in serie D dove l'avezzano del presidente Gianni Paris a questo punto punta scusate il gioco di parole dichiaratamente alla promozione budget rinforzato e acquisti importanti con l'obiettivo appunto della C e poi Vastese Vastese iscritta al campionato che ora pensa alla Coppa in basso c'è un articolo che riguarda invece il Pineto con l'attacco che è una garanzia mentre Indiaie andrà in Spagna proseguiamo con il calcio ancora serie D San Nicolò rivoluzionato per mister Campanile poi l'Aquila niente mercato senza la nuova società si attendono novità come abbiamo visto a tal proposito nelle prossime ore e poi il calcio di eccellenza Casella ultimo arrivo al Chieti invece il Giulianova sempre per l'eccellenza insegue il giovane Bruni andiamo in basso ancora mercato di eccellenza Francavilla non c'è ancora la nuova società in attesa del ripescaggio Francavilla che potrebbe essere ripescato come tutti si augurano in serie D il tecnico Fabio Montani per il momento è in stand by e poi il mercato dei dilettanti Miglianico tre acquisti di esperienza penne tutti contro tutti e società nel caos siamo alla pagina del basket Roseto Sharks obiettivo raddoppiare gli abbonati e quanto annunciato dal patron Cimorosi durante l'incontro con i support se eravamo in 700 possiamo arrivare ad oltre 1500 e poi il general manager Fossataro che dice nonostante gli ottimi incassi abbiamo avuto tante spese il basket di serie B il direttore sportivo Impaloni scommette Campli saprà stupire ancora e poi il Chieti lungo addio Chieti che non parteciperà neanche al campionato di serie B il patron della GM Ovini Marchesani che si era fatto avanti per cercare di rilevare un titolo di una società di serie B per portare la serie cadetta Chieti dice abbiamo avuto troppo poco tempo per far partire il progetto in basso si parla di pattinaggio con la Bosica supera i campionati italiani invece nel triathlon di Palma conquista la vittoria al Sanniti proseguiamo con scusate la pagina relativa al trofeo Matteotti con il russo Shirov che riesce a vincere l'abbiamo visto anche prima la settantesima edizione del trofeo Matteotti e in basso parla il patron del Matteotti Renato Ricci che dice lascio per il futuro vorrei un'abruzzese poi vi proporremo nei prossimi appuntamenti informativi della nostra rete proprio una intervista importante con il patron Renato Ricci tra l'altro vi abbiamo proposto nello speciale a dire il vero andate in onda ieri sera che riproporremo anche nei prossimi giorni con queste parole importanti di Renato Ricci proprio a pochi minuti dal termine della settantesima edizione del trofeo Matteotti altre notizie di altri sport iniziamo dal beach volley con che con la Scampoli che avanza nelle gare in Turchia tre tavastese si è qualificata stop per l'altro abruzzese di Silvestro e poi l'atletica con la Teramana Sabatini agli europei under 20 vetrina internazionale per l'atleta che sui 1500 può andare a medaglia e poi il rugby l'Aquila atteso venerdì l'ok per l'iscrizione intanto la Gran Sasso l'alta formazione aquilana ha già completato il nuovo staff tecnico e noi siamo giunti con questa notizia di rugby al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 17 luglio primo appuntamento della settimana con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà ovviamente domani puntuale alle 8 io ringrazio in regia Maurizio Daguir ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito